buongiorno buongiorno patente libretto non ce l'ho patente libretto cosa perché non ce l'ha perché la mia fidanzata ha le sue cose non sapeva che fare mi ha strappato patente libretto sì sì dai tutte scuse lei come si chiama nome ragazzo cognome frustrato minchia male male malissimo ha bevuto ma una birretta si dai facciamo subito l'alcol test soffi qui 1.8 ma io la dichiaro in arresto e va bene sì lei mi ha fatto aspettare un'ora sotto casa e ho iniziato con la birretta e poi mi so bevuto tutta la cantina no 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 guardi che qui la situazione è grave gravissima e non uscirà mai a meno che non decida di scendere a compromessi sì vi regalo la mia fidanzata no no